tempio italico di castellieri è chiuso e mi accontento di visitarlo dall'esterno se mi metto qui forse si vede un po più ampiamente più avanti non posso andare sopra la collina nemmeno però sommariamente ecco qui vedete comunque sia l'onore e il piacere di trovarmi a visitare il tempio italico dall'esterno al comune di castellieri prango del luca de marzo invece ho visitato il castellieri veramente un bellissimo paese adesso sono salito porca caruso provengo con l'armela anzi esattamente luca de marci adesso vado verso cui hanno secolo e poi salgo al bivio che scende verso cocullo ma io prendo la direzione che va verso verso degli abbrucci e poi scendo per scena e torno a luca de marci